Il più cordiale buon mercoledì da Maria Beatrice Cresci, le audio news di Onda Web TV, le notizie positivo. Anche quest'anno il sistema museale Terra di Lavoro potrà realizzare un progetto istituzionale grazie al finanziamento della regione Campania, lo annuncia l'assessora alla cultura Lucia a Monaco. Il progetto di quest'anno godrà di un finanziamento di 10.000 euro e coinvolgerà i sei musei del sistema, tra i quali il Museo d'Arte Contemporanea e il Belvedere di San Leucio, e tre musei gemellati come il Museo della Civiltà Contadina di San Nicola la Strada e il Planetario di Caserta. Appuntamento con il Cardio Update 2020 organizzato con il patrocinio dell'Azienda Ospedaliera di Caserta dell'Università degli Studi della Campania Luigi Ambitelli. Appuntamento online dal 15 al 30 ottobre attraverso otto webinar in cui verranno discussi con modalità interattiva diversi topics. Il congresso ospiterà esperti nazionali e internazionali che si confronteranno sulle ultime nomità nel campo della cardiologia. Il responsabile scientifico è il professor Paolo Carabro. Concerto per Madre Teresa presso la chiesa di Sant'Andrea Postola Capodrise. L'appuntamento è per il 19 ottobre, questo il giorno in cui Madre Teresa è stata proclamata beata da Papa Giovanni Paolo II. L'inizio è per le ore 19. Protagonista sarà il soprano Teresa Sparaco, accompagnata da Antonella Di Lillo al pianoforte e Concetta Di Lillo al violino. Flowing Arts propone per il 17-18 ottobre un weekend dedicato alla danza classica e contemporanea con due favolosi artisti italiani di alto livello professionale. A condurre lo stage saranno Fabrizio Coppo per la danza classica e Alessio Di Stefano per la danza contemporanea. Appuntamento alla Omniarte Caserta in corso giornone 44 Palazzo Crespino. Prenotazione obbligatoria. Ed è tutto da Maria Beatrice e Crisci un grande abbraccio e una raccomandazione. Seguite le notizie in positivo su ondawebtv.it